Ristretto Italiano, le news dal mondo sull'Italia. L'Italia è il paese dove le terapie di conversione gay sono ancora sostanzialmente legali o meglio non sono state dichiarate illegali come invece è accaduto in buona parte degli altri paesi europei. Buongiorno a tutti, di questo scrive la BBC in un interessante e approfondito servizio che è scaturito dopo la singolare esternazione del Papa che ancora ricordiamo quando recentemente ebbe a dire in una conversazione che lui sperava potesse essere privata ebbe a dire che letteralmente c'è troppa frociaggine nei seminari e scopre l'inviato della BBC che in tempi ancora recenti c'era in Sicilia un giovane, Rosario Lonegro, vent'anni, che in seminario si innamorò di un altro ragazzo e quando i suoi superiori lo scoprirono pretesero che si sottoponesse a una terapia di conversione verso l'eterosessualità, in caso contrario non sarebbe potuto diventare sacerdote e afferma l'autore del servizio che al prete che impose questo percorso la Chiesa ha successivamente assegnato una posizione di rilievo tanto per dire che non ne ha assolutamente preso le distanze. Fu il periodo più buio della mia vita, ha detto lui il ragazzo all'intervistatore ricordando di quei mesi nel 2017 quando fu costretto a prendere parte a incontri spirituali, sempre diciamo, dove venne sottoposto a una serie di pratiche dolorose intese a spogliarlo delle sue inclinazioni, per esempio l'essere rinchiuso in un armadio buio, il doversi spogliare nudo davanti agli altri partecipanti o mettere in scena il proprio funerale rituali durante i quali doveva mettere su carta ai suoi difetti percepiti, tutti relativi all'omosessualità, e poi seppellirli sotto una lapide simbolica. Pratiche che sono già ufficialmente vietate da tempo in Francia, in Spagna, in Germania, in Inghilterra, nel Galles. Del resto è dal 1990, mica ieri, 34 anni fa, che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha rimosso l'omosessualità dalla lista dei disturbi mentali. Le interviste della BBC poi proseguono in tutta Italia, dove benché sia impossibile quantificare la portata e la presenza di questi corsi di conversione sessuale, decine di giovani gay hanno ricostruito il loro percorso, incluse queste sedute di psicoterapia. Pratiche diffuse praticamente in tutte le regioni della penisola, che, scegliendo di stare nel sommerso, pubblicizzano la loro attività e i loro raduni solo sui social media o col passaparola. Guaritori che si dicono specialisti nel risolvere il subbuglio sessuale, che si impossessa di tanti di noi, benché quasi nessuno degli intervistati riferisca di essere diventato poi felicemente eterosessuale. Alla prova del primo bacio con una donna, rispose un altro, mi sono reso conto di quanto mi pesasse quella finzione e me ne andai sentendomi per la prima volta felice di quello che sono. Riferisce, per concludere il servizio della BBC, che in Italia tutti i tentativi di rendere fuori legge queste pratiche, che sono comunque vietate dall'ordine degli psicologi, sono fallite. In Italia, afferma il giornalista, la pervasività della Chiesa è tuttora determinante e certo non aiuta l'attuale governo con la sua ostilità ai diritti delle comunità LGBTQ, anche se c'è da dire che la Chiesa Cattolica si trova comunque in un periodo di profonda trasformazione. Nel frattempo, Rosario Lonegro, quel ragazzo siciliano di cui parlavamo, ha cambiato strada, non gli interessa più farsi prete e si è trasferito a Milano, dove vive felicemente con il proprio compagno, felice di condividere la propria esperienza. Passiamo alla politica. Ormai mancano pochissimi giorni al voto europeo, si vota sabato e domenica. Dalla Spagna, paese come noi chiamato al voto, la Razon, titola, l'Italia diventa il laboratorio politico europeo. La coalizione italiana tra destra tradizionale ed estrema destra potrebbe stendersi al Parlamento europeo se il Partito Popolare europeo collaborerà con la Meloni. Giorgia Meloni, piaccia o no, è diventata una delle principali protagoniste, se non la principale, di questa tornata elettorale. Sovranista in Italia ed europeista a Bruxelles, tutti la corteggiano. Dall'estrema destra di Marine Le Pen ai conservatori che vorrebbero averla con sé, a prescindere dal fatto che von der Leyen continui a fare la presidente oppure no. Fratelli d'Italia, continua la Razon, rafforzerà il mandato ricevuto dagli italiani ormai due anni fa accelerando il suo ambizioso programma in patria che va dalla elezione diretta del capo del governo alla limitazione dei poteri del capo dello Stato e della magistratura. Non è un caso, continua il quotidiano spagnolo, che Meloni sia l'unico premier europeo a candidarsi direttamente. Una scommessa tutto sommato rischiosa, continua l'articolo. Trasformare un'elezione europea in un plebiscito su se stessi, anche se i sondaggi stanno dando ragione. Le esperienze passate, ma non ancora così tanto passate, dimostrano, come scrive il giornale spagnolo, che dieci anni fa Matteo Renzi, all'epoca premier, passò in poco tempo da trionfatore a Strasburgo col 40% dei voti degli italiani alle dimissioni. E cinque anni dopo Matteo Salvini passò in pochissimi mesi dal trionfo alle europee, col 34% alle dimissioni dopo solo un paio di mesi. E che l'aria possa cambiare a breve, anche per Giorgia Meloni lo lascia intendere l'inglese Guardian, che ha mandato la propria inviata a fare un giro fra la gente di Torbella Monaca, un tempo uno dei bacini elettorali più sicuri per la premier, che si richiara orgogliosa delle sue radici di borcata. Dice solo bla bla, ecco perché gli oppressi italiani credono che la Meloni non stia facendo nulla per loro. Titola il servizio, un servizio nel quale una donna settantenne, che ancora fa le pulizie nelle case per mantenere marito e figlio disoccupati, lamenta che nonostante lo show elettorale che periodicamente lei va a fare sotto casa loro, per loro nulla è cambiato. C'è lo spaccio di sempre, le sparatorie di sempre, anche in pieno giorno, in una disillusione che ormai è generale. A Torbella Monaca, estrema periferia est della capitale, subito dopo il raccordo, il 40% delle famiglie vive in povertà assoluta, sei volte la media nazionale. Molte persone sono costrette a lavorare per salari ridicoli, sfruttate dalle stesse imprese che sostengono il governo Meloni. I tassi di abbandono scolastico sono tra i più alti della regione, sono i più alti della regione. Stessa cosa per il livello di detenzione minorile. Se aggiungiamo che la zona era quella col maggior numero di percettori del reddito di cittadinanza, il quadro è completo. C'è stato chi ne aveva approfittato del reddito di cittadinanza, conclude il Guardian, ma troppi poveri hanno finito per essere penalizzati ed ora il Banco Alimentare è preso d'assalto. Intanto, sono state numerose le agenzie e le testate internazionali che hanno rilanciato le parole di Antonio Tajani sulla pericolosa involuzione della politica estera. Titola Europa Press, l'Italia avverte del rischio di una terza guerra mondiale dopo l'autorizzazione all'uso di armi americane contro la Russia. Un piccolo errore potrebbe avere conseguenze catastrofiche, ha detto il nostro ministro degli esteri e vicepremier, assicurando tuttavia che l'Italia è ferma nella difesa della pace. Prima gli Stati Uniti e poi la Germania, come sappiamo, hanno annunciato che autorizzeranno l'uso delle loro armi contro obiettivi sul suolo russo, soddisfacendo così una delle richieste dell'Ucraina, che vede limitata la propria capacità di risposta agli attacchi russi. Fuori dalla politica, sia NBC, dal Canada dedica un servizio, all'Italia che si sta preparando a un'ondata record di turisti fra grandi difficoltà a gestirla. Servizio che comincia da Bellagio, lago di Como, dove fino a un paio di settimane fa, tra l'altro, si erano rifugiati anche Taylor Swift e marito. Ci sono giorni in cui il traffico è immobile, racconta un tassista all'inviato, con le strade strette di sempre e le auto sempre più larghe, non si va né avanti né indietro e a poco è servito a rendere tutte le arterie dei sensi unici. Il sistema viario resta quello di sempre, sotto una pressione mai vista prima. L'Italia è un paese che non può vivere senza turisti, ma nemmeno con così tanti. L'anno scorso furono 60 milioni, tanti quanto gli italiani, con un vantaggio record per l'economia. Lo scorso anno, viaggi e turismo hanno rappresentato il 10,2% del PIL, occupando 4 milioni e 400 mila persone. Ma c'è un limite che non si può oltrepassare ed è legato prima di tutto alla fragilità dei beni culturali che i turisti vengono per vedere. Venezia non ce la fa più e sapremo presto se i 5 euro di ingresso saranno serviti a scoraggiare qualche cosa. Se a Milano vuoi vedere l'ultima cena, cita l'articolista che, a quanto pare, ci ha provato, devi avere prenotato qui 15 minuti concessi a ognuno con molti mesi di anticipo. E non solo, ci sono troppi turisti, ma non c'è abbastanza gente per servirli. La carenza di personale nel settore turistico e alberghiero non risparmia nessuno. Mancano quasi mezzo milione di addetti. Con questo vi saluto. Vi auguro una buona giornata. Noi ci ritroviamo tutti qui domani.